Questo è un nuovo video e oggi vi avevo promesso e lo farò lo speciale 504 iscritti Grazie di cuore Ringrazio a tutti e adesso iniziamo subito col nuovo video di Nova Legacy Legale Iniziamo subito con la campagna E' un gioco veramente bello Ho deciso di portarlo e fare uno speciale per questo e anche per Grazie veramente di cuore Non ci creda ancora Solo ancora libito E ringrazio ancora Lo ringrazio determinante volte Ok qua diciamo avvicinamento alla fregata Korean In generale ci stiamo avvicinando alla fregata Korean Perché ovviamente fregano Ok Vi porto in azione il nostro ospite perché l'India di Sukulastro 9 è noto per portare sempre E sicuramente Allora ok Tocchiamo per saltare andiamo avanti Ok Perfetto Iniziamo ad andare avanti nel video Vediamo dove ci porterà e dove andremo a finire E speriamo di completare piano piano Facciamo 9 minuti a video e vi porto pian piano Delle nuove Una nuova carriera Pian piano Ok Tutto è ancora intenzialmente scioccato che sono arrivato Non so ma veramente vi devo ringraziare perché sono veramente felice E grazie a voi che ho realizzato Pian piano Ci sono riuscito Dai Ok Ho capito Cosa è Ok Stiamo cercando di capire con il stesso effettore di pippaggio Sicuramente sono entrati qua Cosa vuoi fare capire? Continua Intanto un pochettino so come funziona Ok Ok perfetto Basso a sinistra Sì Questa è un Twenty Un pochettino Un pochettino Yeah É un pochettino Yeah I am addicted, I never quit, don't need to speak to no therapist, don't stop keeping it moving is the narrative, do it like whoop, there it is. So, I'll do the same thing. possiamo andare avanti 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 salviamo ragazzi questa è la prima missione è completata ok perfetti molto perfetto vediamo che punto siamo arrivati 6 minuti e 22 ok quindi ricostruisci noi continuiamo tocca per aprire apriamo la cassa e vediamo cosa abbiamo scoperto allora abbiamo un pulse ray per 60 un kit hay per 60 una cella di energia per 1 perfetto un baluardo un dispersion un trilitio è un place wave continuo continuiamo e vediamo cosa abbiamo scoperto andiamo avanti nella storia nella nella nuova carriera ok 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 qua possiamo personali le armi creiamo facciamo un super sistemamento alla nuova ok ok salgiamo perché qua ci fa vedere come fanno a creare usa indietro ok perfetto inizia iniziamo subito una seconda missione ovviamente sarà un po' più difficile di prima ok siamo sempre lì 8 minuti e 15 bel risultato e cerchiamo di andare avanti ok poi stiamo a andare avanti e cerchiamo Ok, cerchiamo di andare avanti Ok 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 Ok